Come risponde lui e deve sollecitare lui l'invito dei documenti e degli atti, vuol dire che di ogni settore deve sapere quali sono i procedimenti, come si svolgono, quali sono gli atti endoprocedimentali, distinguere quali atti vanno pubblicati o no e quindi sollecitarli. Ma voglio dire che il comune di Modena sia in grado di farlo, non lo dubbi, ma che il comune di Lizzano in Belvedere, mille abitanti, che non sa fare un piano urbanistico, non ha un dirigente e ha tre vigili urbani, voi me lo spiegate come riesce a fare questa attività? E guardate, i suoi adempimenti sono uguali a quelli del comune di Modena, del comune di Milano, del comune di Roma, della regione Emilia Romagna. Che possono fare massa critica fra i propri dirigenti, trovare chi è in grado di farlo, non formarlo perché in realtà per la formazione non può spendere, ma insomma dirgli di formarsi. E gli altri comuni? Ma non divide neanche per tipologia di enti. Lo vedremo in parte, ma in parte vi invito a leggere il decreto, per chi non abbia avuto la perversa idea di andarselo a fare, anche non occupandosi di queste cose. Ma tutto ruota intorno a delle distinzioni che sembrano ontologiche nell'ente pubblico, invece sono distinzioni normative che si applicano in modo molto diverso agli enti. La differenza fra organo di indirizzo politico e organo che non è di indirizzo politico è una differenza in alcune amministrazioni impercettibile. Tant'è vero che la delibera 144 del 2014 dell'ANAC che tu citavi arriva a un anno di distanza da una delibera precedente, dovendo rimangiarsela, dire il contrario, perché nel frattempo all'ANAC sono arrivate un sacco di sollecitazioni per far capire che quello che aveva detto nel 2013 non funzionava. E l'ANAC finisce nella sua delibera dicendo, guardate per molte cose, io capisco che avete ragione, però in parte non so come risolverlo, è in parte colpa del legislatore e io non posso fare nulla, affermazione sulla quale tornerò perché non è vera. Ma il dato obiettivo è che l'idea che queste norme, così come sono, si possano tutte applicare a tutti gli enti, a tutte le tipologie di enti, non è vero, è sbagliato. Il caso più classico, Rolando lo sa bene, è quello delle università, in cui per un anno si è cercato di capire quale fosse l'organo di indirizzo politico nelle università. E ne sono uscite di ogni. E il senato accademico sì, il consiglio di amministrazione no. E il senato no, e il consiglio di amministrazione sì. Solo il rettore, l'uno, l'altro e l'altro ancora. Ma attenzione non abbiamo mica finito lì, perché ci sono i consigli di dipartimento, che hanno alcune cose in cui non dipendono né dal senato accademico né dal consiglio di amministrazione, hanno funzioni loro. Allora anche il consiglio di dipartimento, il risultato è talmente confuso che l'ANAX stessa deve dire ma il consiglio di amministrazione sì, mi pare di sì, il rettore mi pare di sì, sul senato bisogna guardare lo statuto della singola università per capire quali sono i poteri effettivi di uno e dell'altro. Scusate, tutto bene, eh? Se non fosse che nel frattempo balla la responsabilità individuale. Cioè che chi sbaglia adesso paga da un punto di vista disciplinare, paga come responsabilità contabile per danno erariale, se causa dei danni con sanzioni all'ente, oppure viene sanzionato lui. Altro punto, quello del rapporto degli interessi, fra la privacy e il diritto di riservatezza e l'accesso e la conoscenza abbiamo già detto, ma non sono mica gli unici interessi in contraposizione. Scusate, c'è anche l'interesse all'efficienza dell'amministrazione, all'accelerità dell'azione. E qui, sebbene i relè siano chiari, deve essere chiaro anche il carico di lavoro all'interno dell'amministrazione. E il carico di lavoro è il responsabile del procedimento, paga per tutti, ha delle grandi sanzioni e dei grandi obblighi, ma è il terminale delle informazioni. I singoli settori mandano i dati, lui ne cura la trasparenza dopo che ha illustrato e aggiornato il piano della trasparenza, ma devono arrivare le informazioni. Quindi hai un'attività di raccolta delle informazioni, una prima attività dei singoli settori, in cui i singoli settori devono prendere e capire atto per atto, tipo per tipo di atto, se va inviato o no ai fini della pubblicazione. Poi hai chi lo riceve che rifà questo check, perché paga di suo e poi pubblica. Scusate, anche qui ragioniamo sempre in astratto. Il sistema è meraviglioso come costruzione astratta. È un po' meno meraviglioso se lo applichiamo alla realtà concrete. Cioè, come funzionano molti dei comuni di oggi? Per le dotazioni che hanno, i limiti del turnover che avranno negli anni successivi? Ma questo è un peso organizzativo. E su che cosa si riverserà il peso organizzativo? Sull'efficienza? Sui tempi no, perché oggi i procedimenti hanno dei termini molto stretti e sono sanzionati i responsabili che non li mantengono. È chiaro sulla qualità. Alla fine, da qualche parte, la coperta, o i piedi o la testa, ho l'impressione che adesso piedi e gambe o spalle più che testa e piedi, rimangono scoperti. Non posso sforare con i termini perché se no mi sanzionano. Non posso sforare con la trasparenza perché se no mi uccidono. niente di più facile che io quello che devo fare in corso del procedimento lo guardo male. Perché tanto sempre io sono, non mi danno un collega di fianco, non mi tolgono delle competenze, ma semmai me le aggiungono, scusate, e alla fine abbiamo un'amministrazione meravigliosa, celere, trasparente, scarsa. Ed è bene che questo ci abituiamo. Cioè, è un problema di balance fra interessi. Questo è quello che ci interessa? Perfetto, d'accordissimo. Muro di vetro, anzi, parete di vetro. Però sappiamo che questa parete di vetro non va di pari passo con la qualità, con la celerità, da qualche parte bisogna risparmiare energie. Quando ho cominciato a occuparmi di questo tema, mi sono imbattuto a proposito di Freedom of Information Act nella letteratura americana. C'è un bravissimo, bravissimo, un bravo scienziato dell'amministrazione che insegna a Bologna che si è sempre occupato d'America. E occupandosi del Freedom of Information Act riporta un adagio di un economista dell'Ottocento americano che fa capire la qualità economica della trasparenza. Però con un adagio. Più si pubblica, meno serve. Cioè, non c'è niente che tolga trasparenza quanto inondare di informazioni la gente. Perché l'informazione buona si perde in mezzo a mille informazioni inutili. Ora, siamo sicuri che ne abbiamo tenuto conto? E siamo sicuri che tutti gli atti di cui si chiede obbligatoriamente la pubblicazione siano funzionali a qualcosa? Forse a qualcosa sì. Alla valutazione interna dell'amministrazione. Abbiamo sicurezza che oggi c'è un soggetto all'interno dell'amministrazione che vede tutto. Che è responsabile della trasparenza che oggi è il padrone dell'amministrazione. In questo forse sì, serve a monitorare. È il super dirigente dei dirigenti responsabile della trasparenza. Ma era pensato per questo? O può essere, può essere che la trasparenza abbia anche questa virtù. Ma lo scopo finale era quello di rendere conoscibili fuori gli atti dell'amministrazione. Ho la netta impressione che in un comune di medio-grandi dimensioni già Modena è così se io vado a cercarmi i dati che mi interessano rischio di non trovare quello sensibile e di perdermi fra mille dati di cui non mi interessa nulla. E attenzione il legislatore del 2012 lo sapeva benissimo. È il legislatore delegato del 2013 che non l'ha più saputo. Perché se voi guardate la legge 190 del 2012 e voi leggete il comma 15 il comma 15 dice che bisogna assicurare la pubblicazione del web le informazioni relative ai procedimenti amministrativi. Certo, poi quando declina nella delega i principi fa riferimento alle funzioni fa riferimento a un sacco di cose ma non si sogna nemmeno di parlare di organizzazione. Poi io prendo in mano il decreto delegato e l'80% del decreto delegato riguarda informazioni di tipo organizzativo. Cioè i procedimenti sono una roba sì va bene le concessioni le erogazioni di sovvenzioni le cose un pochino più delicate gli appalti tanto quelle venivano pubblicate anche prima l'obbligo esisteva anche prima non è che abbiamo acquisito ma abbiamo spostato in un anno dalla legge delega al decreto legislativo l'attenzione dall'attività che era le informazioni che interessavano all'organizzazione l'80% delle informazioni in tema di organizzazione a me come cittadino mi interessano relativamente eppure sono quelle che occupano più spazio più tempo e che occuperanno gran parte dello spazio di sopra perché ovviamente in grande ausilio il decreto legislativo oltre a disporre norme di particolare puntiglio prevede l'allegato e cioè lo schema tipo di sito web se voi lo guardate anche solo i titoli dello schema tipo del sito web vi dicono che stiamo parlando 80% di organizzazione non di attività e poi lo fanno anche in modo strano non so l'accesso civico è una cosa importante rilevante non deve avere un click con scritto accesso civico e dentro altri contenuti e allora quella grande utilità di trasparenza di accessibilità di percorribilità del sito per carità devono essere tutti scaricabili non solo devono essere scaricabili ma adesso sono informato che io posso rielaborare perché servono anche a fini statistici altra cosa curiosa costo zero per l'amministrazione vantaggio zero per l'amministrazione profitto per chi va dentro a prenderli il dato è che non abbiamo neanche ribaltato su coloro che utilizzeranno i dati a scopo economico investigativo un costo dell'amministrazione cioè l'amministrazione deve farlo a zero deve farlo in formato aperto in formato totalmente rimaneggiabile perché altri possono accedere e farci dei soldi vi do un dato il primo rilevante di cui si sta occupando la regione Emilia Romagna i dati informativi sul territorio sono una delle fonti di ricchezza più grandi per le imprese che si occupano di ambiente territorio e tutto allora l'amministrazione fa questa cosa la fa a costo zero non per dei cittadini la fa a costo zero per delle imprese che adesso si vedranno il loro lavoro di ricerca di analisi di collocazione di sistemazione fatto dall'amministrazione a costo per loro zero non per l'amministrazione e da lì in avanti si faranno la loro pubblicazione tant'è vero che è un'informazione che do ai colleghi amministrativisti di questo tema si stanno occupando gli industrialisti cioè della trasparenza amministrativa nelle pubbliche amministrazioni si sta occupando Alberto Musso professore di diritto industriale nella mia università perché cominciano a porsi dei problemi oltre al fatto che se ne stanno occupando il professore di diritto dell'informatica la Giusella Finocchiaro cominciando a pensare la titolarità dei dati di chi è quella roba lì di quello a cui il dato si riferisce dell'amministrazione chi lo tratta come si combina questa roba col trattamento dei dati noi abbiamo una disciplina sul trattamento dei dati che è una disciplina mostruosamente rigida e la sbraghiamo col decreto trasparenza ma quella disciplina rimane ancora e le sanzioni hanno non solo due presupposti opposti o sbaglio uno o sbaglio l'altro ma hanno addirittura due autorità a presidio che fra loro non si parlano poi pubblicazione bene dove altra domanda che sembrerà folle come te lo dice lì c'è il sito web la home page ti spiega anche i link e i relink ma siamo sicuri che è il posto dove la gente li va a cercare tutta l'attenzione è a mancanza dei filtri nei motori di ricerca scusate i motori di ricerca capoprimo non fanno non è che io solo chi mette il dato può mettere dei filtri per evitare che ci si arrivi subito come hanno fatto i ministeri quando pubblicavano le consulenze all'inizio qui non li trovavi venivano pubblicati ma su un sito di ricerca non veniva mai fuori ma il problema è che i motori di ricerca i filtri li mettono come gli pare a loro cioè il ragionamento che fanno sull'immediata percepibilità del dato chiunque abbia un minimo di esperienza sa che i motori di ricerca sui motori di ricerca le priorità dei motori di ricerca lavorano i più grandi geni dell'informatica dell'ingegneria dell'informatica mondiale oggi il mercato è tutto lì e se i filtri li mettono gli altri noi oggi immaginiamo il web come una cosa neutra virtuosa casuale non c'è nulla di casuale come chiunque abbia cliccato una volta su un sito commerciale sa vedendosi arrivare 650 milioni di pubblicità su quella cosa che ha scelto nel suo avvicinanza perché sanno da dove hai fatto l'accesso le priorità i colori e quant'altro nulla è casuale ma non dipende mica da chi mette il dato che se vuole paga perché si vede prima perché si veda prima ma che se no fa il motore di ricerca e questo ad esempio è un problema che io mi sono posto quando vi dicevo le ragioni per cui mi sono avvicinato al tema sulle famose informazioni delle società partecipate che devono essere pubblicate dappertutto cioè la società deve farsi il suo sito amministrazione trasparente che poi amministrazione non è roba trasparente poi l'ente pubblico si fa il suo in cui pubblica dell'altra roba e collega il sito voglio dire anche qui sarà ben diverso il caso di un ente o di un comune che ha 120 partecipazioni con scopi diversi luoghi diversi dal comune che ne ha una cioè la triplicazione poi i dati vanno all'anac la triplicazione del luogo di pubblicazione è amministrazione trasparente o mi costringe a fare io avrei fatto una cosa molto più semplice avrei lasciato ai singoli enti avrei chiesto che cosa doveva essere pubblicato e poi i singoli enti da un punto di vista organizzativo decidono come e dove pubblicarlo dovendo rispondere a un dato tanto c'è l'autorità che ti controlla se hai fatto la furba o se non è adeguato è l'autorità che te lo dirà facciamo così per i prospetti consob che raccolgono il risparmio e non facciamo così invece regolamentiamo rigidamente la trasparenza del comune ma sarà ben più comodo che il sito del comune contenga tutte le informazioni sulle sue partecipazioni piuttosto che sull'altro oppure obbligare a mettere un collegamento un link non dal comune alla società ma dalla società al comune perché io 90 volte su 100 quando vado nel sito di una società non lo so neanche se è partecipata o no e lì mi mancano dei dati e non c'è un obbligo di link dal sito della società al comune c'è un obbligo di link dal comune alla società quindi io potrei andare dentro potrei vedere una società partecipata che mi dice bene i miei consiglieri di amministrazione sono questi bene ma questo lo fanno lo fa anche la luxottica non è mica amministrazione trasparente non è mica una partecipata la luxottica da lì io potrei non sapere mai che quella è una società partecipata qual è il contratto di servizio perché sono tutte robe che devono stare nel sito del comune che però questo non accade per le partecipate più serie ma che per una partecipata non seria che non ha nessun obbligo di dire di essere partecipata da qualcuno non deve emergere e questo è un altro dato e cioè il dato obiettivo del fatto che più si insegue la forma il dettaglio più minuto più si ha paura che scappi qualcosa più in realtà scappa tutto invece di definire degli standard di pubblicazione e poi verificarli caso per caso qui non ci sono sono gli standard di pubblicazione questa è la verità e poi ci sarebbero molte note io sono già in chiusura di alcune però vorrei darvi conto la prima è quella del rapporto fra l'accesso civico e l'accesso tradizionale Stefano lo diceva noi abbiamo la 241 del 90 che prevede un accesso radicalmente diverso dall'articolo 5 guardate non diverso come disciplina diverso come concetto l'accesso della 241 è un accesso precontenzioso soprattutto quando riguarda l'accesso a procedimenti già conclusi la verità è che chi vuole accedere è perché deve decidere se fa ricorso o non fa ricorso e avere gli strumenti per fare ricorso l'accesso civico non è questo l'accesso civico è una roba diversa ma manca radicalmente qualsiasi collegamento fra l'uno e l'altro accesso e badate sono accessi in conflitto l'articolo 5 dice salve comunque le norme così come l'aveva detto la 190 salve le norme sull'accesso della 241 ma non sono salve qui c'è il contrario uno se io per poter accedere a un documento amministrativo che mi serve per agire in giudizio e per la tutela di posizione giuridicamente di primissimo piano sono costretto a essere messo in contraddittorio con il titolare dei dati con la persona a cui si riferiscono i dati scusate ma come può accadere che se invece io accedo per curiosità invece il contraddittorio non esiste cioè vedo male qualcosa io cioè da un lato io devo dimostrare che ho un diritto una posizione giuridicamente rilevante vado a fare è talmente rilevante che sto pensando di tutelarla in giudizio devo rischiare di non vedermi dato il diritto e oppure comunque se anche me lo danno me lo danno in ritardo perché bisogna che il controinteressato abbia svolto le sue considerazioni e dall'altro uno che se facesse una domanda d'accesso tradizionale gli riderebbero in faccia perché non ha nessuna posizione giuridicamente rilevante accede immediatamente perché ti minaccia o me lo pubblica o me lo mandi o tanto faccio la segnalazione all'ANAC e rispondete tutti scusate ma chi è che usa l'accesso dell'articolo 22 si dirà sì ma si usa per quegli atti che non sono soggetti a pubblicazione obbligatoria capito quali sono quelli rilevanti ai fini della tutela mia allora fuori tutto quello che riguarda i provvedimenti di concessione autorizzazione erogazione e tutto perché quelli sono obbligatoriamente pubblicati che cosa rimane dentro qualche micro atto endoprocedimentale qualche cosa che riguarda il mio esproprio in cui ti chiedo una perizia ma guardate che questi normalmente io li ho già visti perché l'accesso endoprocedimentale con la partecipazione ormai è dalle amministrazioni lasciato lì e guardate che su quello noi ci abbiamo costruito un processo speciale quindi noi oggi dobbiamo dire che gli articoli 22 e seguenti sono residuali che è un processo che avevamo costruito non serve più ma ancora una volta torno al dato fondamentale che l'interesse pubblico per cui avevamo fatto tutto quel casino non esiste più non conta più niente cioè la tutela di coloro a cui i dati si riferiscono fine ma noi siamo sicuri che questa roba è compatibile con la nostra disciplina con il nostro codice della privacy siamo sicuri che l'autorità di garanzia della riservatezza su questo non avrà mai potere sanzionatorio io qualche dubbio ce l'ho oltre dell'aggravio chiudo con un dato che secondo me è rilevante anche come emblema della confusione normativa e soprattutto del pericolo che è quello sanzionatorio cioè tutto il regime sanzionatorio che io ho visto è un regime per responsabilità oggettiva tutto attenzione è per responsabilità oggettiva non che deriva dalla violazione di un obbligo di vigilanza e io rispondo per la mancata pubblicazione anche questa quando questa dipende da un altro e anche se me ne sono accorto glielo ho detto e il massimo si raggiunge all'articolo 22 in cui è previsto che siano pubblicati i dati delle partecipate dunque le partecipate devono pubblicare dei dati loro non è chiaro quali ancora non è chiaro quale sia l'organo di indirizzo politico l'ANAC aveva detto una cosa nel 2013 buttando là l'assemblea oggi si è rimangiata quello che aveva detto ma senza dire nulla di più ad esempio non ha detto niente neanche sulle fondazioni in cui davvero non so neanche come declinarlo l'organo di indirizzo politico gli atti da pubblicare ma qui a parte quello che dovrebbero pubblicare le società partecipate il comune deve partecipare deve pubblicare vi dicevo alcune indicazioni lui sulle sue partecipazioni nelle società se non lo fa la sanzione qual è al di là delle sanzioni personali e di chi non le fa ma la sanzione è non puoi dare a quella società partecipata soldi erogazioni neanche se sono in adempimento di un contratto allora abbiamo inventato una sanzione che non è per responsabilità oggettiva o indiretta è una sanzione per anche dolosa omissione di un fatto o di un altro cioè io ho pubblicato tutto quello che dovevo io il comune non ha pubblicato la roba sua chi paga io perché non mi danno i soldi di prestazioni che faccio e a questo cosa consegue 90 su 100 un'azione di risarcimento del danno da parte della società partecipata all'ente partecipante perché se è una società a partecipazione mista il privato non la prende quel danno per nulla allora al di là come dire della complessità del sistema e del rischio del sistema mi dite a cosa serve cioè alla fine la mia impressione è che il sistema sanzionatorio sia un sistema acriticamente punitivo non funzionale cosa vuol dire che le norme sulla trasparenza sono sbagliate non vanno non funzionano che è stato un errore farlo no io mi limito a due considerazioni il primo è che io ho avuto un maestro di diritto amministrativo che mi ha detto ricordati che non esiste l'interesse pubblico esistono gli interessi pubblici e ricordati che gli interessi pubblici non vanno d'accordo l'uno con l'altro sono tutti in conflitto l'uno con l'altro puoi preservare l'ambiente bene lo sviluppo territoriale economico ne subisce vuoi sviluppare economicamente il territorio è la compressione del mantenimento dell'ecosistema lo subisce quello di cui l'ordinamento non si rende conto è questo che questo questo diritto portato all'eccesso compromette altri interessi pubblici altri interessi privati non è grave però bisogna esserne consapevoli e bisogna prendere le contromisure l'ultimissima considerazione che faccio e vi chiedo scusa sono stato lunghissimo qualcuno prima o poi ci dirà fra qualche anno non quanto è stato pubblicato qual è il grado di soddisfazione raggiunto degli obblighi previsti da legge ma c'è un sistema di monitoraggio su quale vantaggio ha portato questa cosa perché nel sistema americano oltre al freedom of information act c'è di fianco nel bilancio del congresso degli stati uniti c'è di fianco l'indice economico dei risultati delle performance normative cioè quella legge ha prodotto questi vantaggi o questi svantaggi ecco mi piacerebbe solo che fra dieci anni noi potessimo sapere non solo quante amministrazioni hanno ottemperato quante volte sono state sanzionate perché non hanno scritto ma quanto questa norma ha prodotto in termini di risultati vi ringrazio passiamo la parola a Davide Manelli sono le 16.45 quindi arriviamo se ci riusciamo alle 5.30 per tenere poi un po' il dibattito poi deve parlare il professor Pini quindi Buon pomeriggio a tutti ho ascoltato con molta attenzione gli interventi degli illustri relatori che mi hanno preceduto io che avvocato non sono e quindi vi premetto che quella che vi porto è l'esperienza di un comune insomma che conoscete dimensioni medio-grandi che ha dovuto dare applicazione a questa normativa insomma che non ha avuto come tutti gli altri come è successo per tutti gli altri enti locali indicazioni chiarissime da parte dell'autorità nazionale anticorruzione più che altro insomma l'autorità nazionale anticorruzione nel corso di questi anni ha esercitato molto i suoi poteri diciamo di controllo spesso anche formale quindi insomma quello che io ma penso anche i miei colleghi di altri enti hanno provato a fare in questo periodo è stato quello insomma di muoversi sopra insomma mantenere l'equilibrio tra queste spinte diverse quindi nell'illustrazione che vi farò troverete insomma alcuni dei concetti che sono stati già espressi ovviamente in forma semplificata quindi diciamo precedenti agli spunti critici che sono stati illustrati e che spero il legislatore voglia vorrà come dire fare propri nell'intervento di revisione normativa sulla disciplina della trasparenza e dell'anticorruzione che stiamo aspettando quindi diciamo noi abbiamo cercato di avere anche una visione un po' ottimistica insomma di questa evoluzione normativa negli ultimi 20 anni e quindi insomma abbiamo cercato di considerare insomma di vedere un percorso evolutivo positivo a partire insomma dalla legge 241 quindi da un diritto di accesso che tutelava tutela interessi diretti concreti attuali che richiede una motivazione per essere esercitato che valuta inammissibile un'istanza di accesso prodinata un controllo generalizzato per arrivare poi invece alla prima applicazione intanto la prima volta credo insomma in cui si è utilizzata in modo così esteso la parola trasparenza è stato col decreto Brunetta nel 2009 che sapete che per noi è stato un po' insomma un decreto molto importante insomma che ha avuto effetti considerevoli sulla nostra attività e che ha introdotto il concetto di trasparenza come accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di informazioni in primo luogo appunto concernenti l'organizzazione quindi insomma il decreto 33 che poi seguito dopo ha raccolto in quanto testo insomma sostanzialmente testo unico molti degli adempimenti che noi avevamo già a partire dal decreto Brunetta quindi tutta la parte sull'organizzazione viene sostanzialmente da lì degli indicatori relative agli andamenti gestionali e utilizzo delle risorse dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione questo era uno dei punti chiave come sapete della riforma Brunetta al fine di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità e poi appunto è stato introdotto il concetto il principio per cui la trasparenza costituisce un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche con la legge 190 che concordo pienamente non ha previsto l'emanazione di un decreto ma diciamo i contenuti della delega erano e sono oggettivamente molto più limitati rispetto a quello che poi è stato inserito nel decreto 133 e soprattutto insomma molto più ristretti rispetto a quello che attualmente si sostiene che debbano fare anche enti diversi dalle amministrazioni pubbliche penso soprattutto alle società partecipate in generale gli enti di diritto privato in controllo pubblico noi abbiamo come dire cercato di interpretare questa norma insomma di vedere l'evoluzione del concetto di trasparenza come insomma uno strumento di lotta alla corruzione quindi tramite la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità il decreto 33 che è figlio della legge anticorruzione contiene insomma la definizione che è già stata data di trasparenza e delle finalità che ha la pubblicazione dei dati in generale l'applicazione della normativa sulla trasparenza è già stato detto insomma dall'avvocato Zironi quali sono i contenuti di principio dell'articolo 1 del decreto che sono questi come non condividerli sull'applicazione concreta stiamoci un attimo insomma in cosa poi si traducono concretamente questi principi in primo luogo sul fatto che i dati debbano essere pubblicati sui siti istituzionali in un'apposita sezione che si chiama amministrazione trasparente apro una piccola parentesi vedrete nel corso dell'esposizione che non abbiamo tantissimi margini per scegliere cosa come quando pubblicare le cose nel senso che le informazioni sono devono seguire uno schema molto rigido addirittura insomma noi abbiamo avuto qualche piccolo problema più che non tanto per la sostanza dei contenuti pubblicati quanto insomma per delle questioni meramente nominalistiche sapete che esiste uno strumento che monitora in modo automatico l'applicazione del decreto trasparenza a tutti gli enti locali si chiama Magellano abbiamo avuto anche occasione di verificare che i risultati di questo monitoraggio sono stati utilizzati per fare delle graduatorie noi pensavamo di essere almeno formalmente a posto ci siamo accorti come Comune di Modena che non rispettavamo un indicatore e quindi avevamo un punteggio inferiore rispetto agli altri abbiamo verificato quale fosse il problema il problema è che non avevamo istituito una sottosezione di secondo livello che si chiama OIV deve essere proprio così OIV quindi il cittadino è tenuto a sapere che cos'è un OIV l'OIV è l'organismo indipendente di valutazione che gli enti locali possono non avere non istituire possono istituire un organismo che si chiama in modo diverso che ha anche regole di composizione di composizione essenzialmente non coincidente che si chiama nucleo di valutazione quindi noi avevamo fatto questa scelta diciamo così ribelle di cambiare una sottosezione di secondo livello chiamandola nucleo di valutazione con una nota in cui dicevamo noi non abbiamo l'OIV abbiamo il nucleo di valutazione bene non andava bene quindi abbiamo dovuto istituire una sezione che si chiama OIV dentro alla quale c'è una cosa che non è l'OIV Magellano rimacinando i dati pubblicati sui siti ci ha automaticamente riassegnato il punteggio massimo quindi insomma ci troviamo noi enti locali di fronte anche a questa alternativa cioè quella di a volte scegliere tra fare una cosa che effettivamente magari è più utile per il cittadino o comunque che riteniamo fatta meglio e dall'altra parte invece adempiere formalmente al dettato normativo è chiaro che non solo è più comodo fare nel secondo modo ma a volte è necessario fare in questo secondo modo chiusa la parentesi questi principi generali si sono poi concretizzati nella necessità di garantire che per l'accesso ai nostri siti istituzionali non ci fosse o almeno un'amministrazione trasparente necessità di alcun tipo di autenticazione ed identificazione chiunque può conoscere i dati oggetto di pubblicazione quindi quelli che si diceva che devono essere pubblicati che sono effettivamente solo quelli che sono effettivamente anche tanti quindi diciamo un cittadino più o meno insomma ha la possibilità di trovare moltissime praticamente tutte le informazioni che gli occorrono probabilmente anzi sicuramente si corre il rischio poi di pubblicare troppe informazioni quindi di arrivare alla circostanza per cui l'eccesso di informazione equivale all'assenza di informazioni oppure che il cittadino non riesca a orientarsi in questa struttura nella quale noi stessi io stesso che sono responsabile della trasparenza per molto tempo ho fatto fatica ad orientarmi il cittadino che poi trova effettivamente i dati che gli interessano e devo dire che fondamentalmente poi quelli che vengono visualizzati di più sono quelli per i quali c'è un interesse come dire magari un po' voyeristico cioè quelli sulle retribuzioni dei dirigenti quelli sulle situazioni patrimoniali degli amministratori poi ci sono anche moltissimi altri dati che effettivamente io dubito che vengano mai letti vengano mai cercati dai cittadini chiunque comunque ha il diritto di conoscere i dati di fornire gratuitamente di riutilizzarli appunto e devono essere anche in formato aperto quindi insomma sono effettivamente una fonte informativa è un patrimonio di dati considerevole che possono essere riutilizzati col solo obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità devono essere in formato aperto quindi sono effettivamente molto facili da riutilizzare per chi si ritrova in formato aperto un po' meno da produrre in formato aperto per chi magari viene da una lunga tradizione amministrativa che è improntata al segreto quindi con dati non dico cartacei ma di sicuro non sempre anzi raramente in formati aperti dati che devono essere anche di qualità le informazioni pubblicate devono essere offerte garantendo integrità delle informazioni aggiornamento costante completezza tempestività di aggiornamento semplicità di consultazione comprensibilità omogeneità facile accessibilità conformità ovviamente ai documenti originali indicazioni della provenienza riutilizzabilità tutto questo ha risorse invariate l'elencazione di questi principi ovviamente determina l'impossibilità di rispettarli tutti nella pubblicazione dei dati anche perché abbiamo effettivamente questo comma che ci ha dato molto da fare perché l'esigenza dice il decreto dell'articolo 6 comma 2 l'esigenza di assicurare un'adeguata qualità delle informazioni diffuse quindi diciamo la necessità di garantire tutte queste qualità delle informazioni non può in ogni caso costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati delle informazioni dei documenti quindi noi noi comuni noi tutte le amministrazioni pubbliche noi direi a questo punto ormai dobbiamo dire anche enti pubblici organismi di diritto privato in controllo pubblico quindi società pubbliche direi anche fondazioni partecipate dal pubblico con il distinguo che poi faremo dopo hanno l'obbligo di fornire dati perfetti tempestivi di darli subito e di darli senza spendere risorse sui formati aperti queste che vi sto dicendo sono le indicazioni che noi abbiamo dato ai nostri uffici e che sono diciamo frutto spesso poi di approssimazioni ci torneremo eventualmente sopra quando il quadro normativo magari sarà meglio definito per il momento noi stiamo cercando perché non sempre è possibile di pubblicare o di convertire i documenti che non sono già pubblicati in questi formati nei formati aperti quindi per esempio RTF per i documenti di testo CSV per i fogli di calcolo oppure i corrispondenti documenti creati con i software di open office file PDF che non siano scansioni oppure formato HTML sulla durata della pubblicazione noi dobbiamo provvedere la pubblicazione per un periodo di cinque anni dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di cui decorre l'obbligo di pubblicazione comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti capite che in un'amministrazione abbastanza grande nel quale si cerca di implementare delle procedure che in modo automatico portino queste informazioni sul sito perché derivano spesso da altre procedure bisognerebbe probabilmente che il responsabile della trasparenza esaminasse ogni singolo atto e valutasse fino a quando ogni atto produce gli effetti per valutare anche quando cessa l'obbligo di pubblicazione capite che quando in un'amministrazione grande si producono come il nostro caso migliaia di atti diventa difficile un esame puntuale su un singolo atto dopodiché comunque i dati debbono rimanere pubblicati però in un'altra sottosezione di archivio quindi ognuna delle sezioni che vedremo dopo della sezione di amministrazione trasparente deve avere a sua volta una sezione archivio ci sono alcune eccezioni sulla durata per i dati di organi relativa agli organi di indirizzo politico la durata è per tre anni dopo la cessazione del mandato tranne le dichiarazioni patrimoniali che sono appunto quelle più delicate che alla fine del mandato devono essere tolte e non trasferite nella sezione di archivio e i dati sui dirigenti sono sostanzialmente i curriculum e le retribuzioni che devono essere pubblicati anche per ulteriori tre anni dopo la cessazione dell'incarico quindi nel nostro sito per esempio abbiamo tutti i nostri dirigenti che sono andati in pensione per i quali continuiamo a pubblicare i relativi dati dei loro incarichi questa era la piccola premessa per arrivare poi a dirvi come abbiamo costruito questo nuovo documento previsto dal decreto 33 in realtà lo prevedeva già il Brunetta non per gli enti locali anche in questo caso ci fu come dire ci furono pareri contrastanti sull'obbligo meno per gli enti locali di adottare questo piano noi come di Modena fumo uno degli enti con anche altri colleghi che scelsero di applicare alla lettera il decreto Brunetta e quindi di non predisporre il programma triennale per la trasparenza e l'integrità ma di fare un'altra cosa un piano per la trasparenza quindi una cosa parzialmente diversa dopodiché dopo lunghe discussioni che coinvolsero anche l'Anci e il Ministero della Funzione e il Dipartimento della Funzione Pubblica è successo che l'obbligo per noi è stato inserito nel decreto 33 da allora io sono diventato un po' pessimista insomma sulla possibilità che effettivamente le cose si risolvano in modo positivo nel senso di diminuzione degli adempimenti a nostro carico ed è per questo poiché temo anche che per quanto riguarda gli organismi di diritto pubblico e le società pubbliche per le quali inizialmente ritenevo si dovesse applicare solo la legge anticorruzione quindi con degli obblighi molto ridotti rispetto ai nostri temo e insomma poi dopo vedremo perché che si arriverà a un'applicazione integrale per tutti cos'è il programma trenale per la trasparenza e l'integrità un documento che deve essere aggiornato annualmente che ha un orizzonte trenale come tutti i nostri documenti ormai di programmazione ha lo scopo appunto di garantire un adeguato livello di trasparenza cosa contiene le misure i modi le iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione comprese le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi normalmente il programma per la trasparenza è una sezione del piano di prevenzione della corruzione nel nostro caso nel caso degli enti grandi possono essere anche due documenti distinti deve essere ovviamente strettamente correlato con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione che sono i soggetti coinvolti tutti i dirigenti dell'amministrazione o chi svolge funzioni analoghe a quelle dirigenziali il responsabile della trasparenza che ogni amministrazione deve individuare l'organismo indipendente di valutazione o struttura analoga questa dicitura o struttura analoga è venuta fuori a un certo punto quando appunto è tornato alla mente di tutti che non tutti gli enti avevano l'OIV ma anche altre strutture analoghe come i nuclei di valutazione e infine l'autorità nazionale anticorruzione che è il massimo controllore di tutto il processo la prima responsabilità ferma restando quella del responsabile della trasparenza la prima responsabilità è però dei dirigenti l'articolo 43 di tutti i dirigenti l'articolo 43 stabilisce che essi hanno l'obbligo di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare per rispettare i termini di legge il responsabile della trasparenza cosa deve fare deve controllare sull'adempimento gli obblighi di pubblicazione assicurando che rispettino tutti i requisiti che abbiamo visto deve purtroppo segnalare all'organo di diritto politico cioè alla giunta all'OIV o struttura analoga quindi ai nuclei di valutazione all'ANA che nei casi più gravi è all'ufficio di disciplina i casi di mancato ritardato adempimento deve predisporre e sottoporre all'approvazione dell'aggiunta il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e deve garantire l'attuazione dell'accesso civico l'OIV deve verificare la coerenza degli obiettivi che prevede il programma della trasparenza con tutti gli altri documenti di programmazione dell'ente quelli che adesso si chiamano complessivamente piano della performance deve utilizzare queste informazioni per misurare la performance organizzativa e individuale quindi quella delle unità organizzative e quella dei singoli dirigenti e deve formalmente a seguito di trasmissioni di informazioni da parte della responsabile della trasparenza fare le attestazioni all'autorità nazionale anticorruzione che chiede normalmente una attestazione all'anno e il primo anno nel 2013 ne ha chiesta anche una intermedia normalmente l'anac si focalizza su alcuni specifici aspetti dei quali chiede l'adempimento quelli sui quali si è focalizzata finora sono i dati sugli organi di indirizzo politico quelli su cui c'è maggiore diciamo curiosità da parte di tutti ma anche dell'anac e i dati sugli enti partecipati queste sono più altre diciamo informazioni minori però insomma il focus è prioritariamente su questi aspetti ecco quello che fa scusate quello che fa l'anac l'abbiamo già detto quindi controlla che tutte le pubbliche amministrazioni possano provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione a sua volta assegnala agli uffici di disciplina agli OIV tutti i casi di inadempimento e soprattutto fornisce degli orientamenti agli enti locali nel loro sito se avete occasione di consultarlo troverete c'è una sezione specifica di orientamenti sulla trasparenza ma anche sull'anticorruzione delle sanzioni si è già detto esistono sono abbastanza gravi l'inadempimento comporta responsabilità dirigenziale eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine ed elemento di valutazione per la quantificazione della retribuzione di risultato l'unica scappatoia che ha il responsabile della trasparenza è quella di provare che l'inadempimento sia di peso da causa a lui non imputabile questo noi l'abbiamo interpretato come nel senso che una volta che il piano della trasparenza definisce delle modalità di trasmissione delle informazioni ben dettagliate e una volta che il responsabile della trasparenza abbia segnalato richiesto la pubblicazione del dato probabilmente insomma si può ritenere che l'inadempimento non sia a lui imputabile fortunatamente non abbiamo ancora avuto occasione di scontrarci con questa fattispecie e mi auguro anche che non ci sia occasione almeno nell'immediato ci sono poi sanzioni per i casi specifici di inadempimento in parte derivano da norme precedenti sono sanzioni pecuniari e vi segnalo in particolare l'ultima perché è stata introdotta recentemente col decreto 90 del 2014 che si riferisce proprio all'omessa adozione del programma della trasparenza del piano anticorruzione e del codice di comportamento si determina si rischia una sanzione pecuniaria da 1000 a 10.000 euro è interessante anche valutare e visionare una recente delibera dell'ANAC in cui si definisce il procedimento per arrivare alla verifica di questa omessa adozione e anche come viene qualificata come viene definita l'omessa adozione perché l'omissione non è solo non averlo fatto ma anche l'averlo fatto banalizzo male l'averlo copiato da altri enti avere riprodotto in modo pedisse codisposizioni normative quindi insomma si prevede anche un controllo di merito sulla qualità del programma da questo deduco che l'autorità nazionale anticorruzione abbia una struttura considerevole che le permetta di fare delle istruttorie approfondite sui piani anticorruzione di 8.000 comuni più tutti gli altri enti pubblici che sono tenuti all'applicazione di questa normativa mi permetto di fare alcune osservazioni sulla privacy ma insomma più che altro per dirvi come abbiamo fatto noi non con la pretesa di ritenere che abbiamo scelto la strada giusta però in attesa che effettivamente l'autorità nazionale anticorruzione e il garante per la privacy trovino finalmente un dialogo e riescono effettivamente a trovare delle soluzioni anche facilmente applicabili noi ci siamo mossi in questo modo abbiamo fatto riferimento in primo luogo alle nuove linee guida in materia di trattamento di dati personali che sono state emanate dal garante pochi mesi fa il 15 maggio del 2014 che si fondano appunto sull'esigenza di salvaguardare bilanciare le esigenze di trasparenza da una parte invece col diritto alla riservatezza all'identità personale e alla protezione dei dati personali appunto che sono anch'esse forse di più diritti e libertà fondamentali salto questa parte ovviamente perché la conoscete molto meglio di me ci siamo però abbiamo come dire valutato sempre con l'elemento discriminante il fatto che la diffusione i dati personali la consideriamo ammissibile solo se prevista da legge o da regolamento e se sono poi dati sensibili o giudiziari solo se c'è una legge che la prevede quindi in caso di assenza di legge o di regolamento noi procediamo ci siamo andati in questa linea di procedere alla pubblicazione del documento ma dopo aver anonimizzato i dati personali se invece esiste una legge o un regolamento che impone la pubblicazione una volta esaminata alla natura del dato personale occorre una valutazione che non è sempre facile per le ragioni che vi dicevo prima anche per la mole i documenti contenuti se il dato personale è comune pubblichiamo che è un'altra che è un'altra che è un'altra